In gergo si chiama cavallo di ritorno, ti rubano un camion e poi ti chiedono i soldi per restituirlo. Una pratica estorsiva molto radicata, al sud una vera e propria piaga, come l'hanno definita gli inquirenti, ma poco denunciata nel nostro territorio per ragioni probabilmente di convenienza. Ne è stato vittima un imprenditore forse impronese. 4.000 euro poi diventati 3.000, questa la richiesta dei malviventi, padre e figlio di origini campane, che hanno fatto all'imprenditore che aveva denunciato il furto di un mezzo, un Iveco Daily, del valore di 33.000 euro. I carabinieri di Fano hanno arrestato in collaborazione con i colleghi di Villa Literno i due dipendenti della ditta che, carpendo la fiducia dell'imprenditore che dava loro il mezzo per rientrare a loro domicilio, hanno ordito a sua insaputa questo ricatto, fingendosi intermediari tra lui e i malviventi. Questo imprenditore è stato rubato un mezzo e successivamente ha ricevuto una richiesta estorsiva. Praticamente è stata richiesta una cifra pari a 4.000 euro per riottenere in cambio questo mezzo. Che cosa è successo? L'imprenditore alla fine ha consegnato una cifra pari a 3.000 euro, ma non ha mai riottenuto il mezzo in cambio. Nel frattempo però ha presentato denuncia presso l'arma di Fossombrone. Da lì è partita un'attività tecnica di indagine assolutamente complicata perché tutto questo che stiamo raccontando è avvenuto in provincia di Caserta. Parliamo della terra di Sandoca, una terra di mafia, una terra di Camorra. In realtà il responsabile era il dipendente stesso che insieme al figlio aveva deciso di appropriarsi del bene, denunciarne falsamente il furto e fare una richiesta estorsiva per poter riconsegnare questo mezzo. Consegna che non è mai stata nelle loro intenzioni, infatti dopo il furto è stato evviato il mezzo ai canali di riciclaggio. Questo che cosa comporta? Comporta un duplice danno da parte dell'imprenditore, perché l'imprenditore si è visto sottratto sia del mezzo sia della cifra che è stata consegnata nella speranza di riottenere in cambio il mezzo stesso. Grazie. Grazie. Grazie.